Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video oggi mi vedete completamente struccata perchè dopo un po' di tempo che non registro più, non mi preparo con voi ho pensato di farlo, voglio un po' chiacchierare con voi e raccontarvi come si sta evolvendo la casa nuova ho qua anche due pacchi da aprire quindi voglio fare un po' un misto mi preparo con voi mentre chiacchio lo spacchetto insomma parliamo un po' in tranquillità e spero che questo video non diventi lunghissimo direi subito di partire e come prima cosa vado a mettere una crema idratante questa è di Estée Lauder la vado ad applicare sia la mattina che la sera prima di andare a letto solitamente la crema idratante la vado sempre a mettere appena sveglia mi lavo il viso e poi vado a stendere la crema idratante, però in questo caso volevo truccarmi con voi quindi la sto mettendo soltanto adesso per cui solito è un passaggio che faccio sempre la mattina appena sveglia questa è una crema che va a nutrire un sacco il viso e rende la pelle anche più rabbiosa e dopo quattro settimane ho letto che dovrebbe rendere la pelle anche più compatta non la sto utilizzando le quattro settimane quindi questo ancora non ve lo so dire però la sento che è molto più nutrita e anche più radiosa è una crema della consistenza molto densa si assorbe però velocissimamente adesso ovviamente aspetto qualche minuto prima di passare al make up è sempre meglio in realtà però andare a mettere una crema viso, una crema idratante parecchie ore prima di truccarsi se non mi sto facendo io in questo momento però volevo farvi vedere questa questo prodotto di Esteluder questa crema che veramente mi sta piacendo un sacco la sto utilizzando io ormai da due settimane appunto tutte le mattine e tutte le sere e mi ci sto trovando davvero benissimo inoltre questo prodotto è anche anti-aging quindi se volete attenuare le vostre rughe questa crema è perfetta va a rendere proprio la pelle più radiosa e più giovane veramente se vi capita ve la consiglio il prezzo è abbastanza elevato per questo tipo di prodotto perché se non sbaglio costa 100 euro se non ricordo male comunque vi lascio magari tutti i prodotti che sto utilizzando il link sotto nell'info box però davvero è super super valida prima di partire con il vero e proprio make up vado a mettere sulle labbra questo balsamo super idratante ultra idratante di Puro Bio che hanno tra l'altro riformulato l'anno scorso sono usciti appunto questi sono in totale sette prodotti per labbra sette balsami labbra con diverse caratteristiche però risultavano molto molto duri quest'anno li hanno riformulati e infatti sono decisamente più morbidi prima di truccare mi vado sempre a mettere un balsamo labbra per idratarle perché specialmente in questo periodo dell'anno le mie labbra sono super super secche e questo ultra idratante Lip Balm è fantastico questo in realtà sarebbe più indicato utilizzarlo tutte le sere prima di andare a dormire infatti così faccio lo applico tutte le sere ce l'ho proprio qui sulla scrivania tutte le sere prima di andare a letto me lo passo perché va un sacco ad idratare poi ci sono anche quelli ad esempio l'Everyday Lip Balm che si può utilizzare tutti i giorni è come un semplice burro cacao poi c'è anche il burro cacao colorato che adesso non ho preparato quindi non riesco a farvi vedere e poi sono usciti anche due nuovi prodotti il Lip Cream quindi una crema per labbra e il Lip Scrub che serve proprio per andare a fare uno scrub sul labbra però di quelli ve ne parlerò più avanti come primer vado a mettere questo di Benefit The Porefessional Pore Minimizing Makeup questo è nella tonalità 1 la più chiara è un primer super super liquido forse fin troppo vado a metterlo sulla sua spugnetta è veramente liquidissimo cola tantissimo bisogna essere super veloci durante l'applicazione e se devo dirla tutta sinceramente questo applicatore non mi piace tantissimo preferisco farlo stenderlo con le mani perché ci metto troppo altrimenti con la spugnetta incorporata quindi con le mani faccio sicuramente prima e lo vado a mettere su tutto il viso mi concentro specialmente sulla zona T passo poi al fondotinte vado ad utilizzare questo di L'Oreal la Corde Parfait questo lo sto utilizzando da circa un mesetto e il mio è nella tonalità 4D barra 4W ci sono un sacco di codici in questi fondotinta e lo vado ad applicare con questo pennello di Puro Bio che mi piace tantissimo all'inizio la tonalità può sembrare più scura rispetto al mio viso ma poi una volta steso per bene è perfetta comunque come vi dicevo all'inizio del video ho qui due pacchettini da aprire finisco di applicare il fondotinta e poi li apriamo insieme perché sono curiosissima uno arriva da Puro Bio mentre l'altro invece arriva da Lalalab dove ho fatto stampare 5 foto XL di Gioia dopo le vediamo insieme sono foto che ho pubblicato tutte su Instagram se non mi seguite ancora vi lascio il mio nickname già da fra il 91 mi raccomando seguitemi faccio un sacco di un sacco ultimamente non tantissime però ogni tanto mi piace fare gli Instagram stories o magari spacchetto direttamente su Instagram appunto i pacchetti che ricevo al momento subito in diretta appena il corriere mi suona poi solitamente registro sempre il video spacchettamento non riesco mai ad accumularli perché sono troppo curiosa e alla fine quando registro il video spacchettamento sono sempre in realtà tutti aperti i miei pacchettini comunque una volta che ho teso il fondotinta lo vado poi a passare anche sul collo questo fondotinta mi sta piacendo un sacco è di coprenza medio-bassa però per il mio tipo di pelle è sicuramente un fondotinta perfetto perché non ho troppe imperfezioni da coprire non ho delle macchie particolari che devo andare a coprire e quindi questo fondotinta risulta veramente perfetto per il mio tipo di pelle prima di andare a ridefinire il sopracciglia vado a mettere il primer serve sia a far durare il prodotto la matita che andremo a mettere in un secondo momento più lungo ma in realtà serve anche per far crescere i peli più velocemente intanto che aspetto che il primer si asciughi vado ad aprire questa bustina no vabbè cioè guardate che spettacolo questo è un formato XL sono veramente grandissime ho scelto di stampare questa con le foglie d'autunno sembra quasi che si sia messa in posa è uscita benissimo la adoro questa foto sicuramente la incorniccerò perché è troppo troppo bella poi c'è anche questa che ho scattato lo stesso giorno questa è presa più da lontano che guarda da un lato con la zampetta sollevata anche questa la trovo veramente bellissima ma vabbè queste foto sono spettacolari non vedo l'ora di incorniciarle poi un'altra sempre di gioia è questa scattata qui in camera qua la tenevo in braccio guardate con il musino la faccia storta che era intenta ad ascoltare quello che le dicevo anche questa bellissima poi una cosa che adoro un sacco di lei è che ha questa zampetta tutta bianca è tutta nera ma la zampetta bianca e questo dettaglio mi piace un sacco poi un'altra foto che ho fatto stampare ma questa però non è di gioia questa sono io con i palloncini 26 questa l'ho scattata il giorno nel mio compleanno che è stato il 25 maggio ho fatto 26 anni mi piaceva molto molto come è uscita e quindi ho pensato di stamparla proprio come fotoricordo e l'ultima è del mio gigante preferito Pato lui l'altro è il mio cane è un meticcio però abbastanza ed è un cane di media taglia e questa foto l'ho scattata lo scorso anno nel periodo di Natale infatti c'è anche l'albero di Natale che si vide qua nello sfondo e tra le sue zampette c'era anche questo pacchettino regalo perché ogni anno a Natale c'è sempre un regalo anche per lui in quest'anno anche per gioia sicuramente veramente queste foto sono uscite benissimo mamma che belle se anche voi volete stampare delle foto del genere o anche delle foto semplicissime delle foto effetto polaroide sul sito di Lala Lab vi lascio il codice sconto sia qua sotto nell'info box che anche qua in sovrimpressione del 30% che è tantissimo dovete inserire il codice Lala già da fra 91 comunque vi lascio scritto anche tutto qua sotto nell'info box nulla continuiamo a truccarci passo le sopracciglie cioè continuo con le sopracciglie vado a mettere questa matita di L'Oreal la Brow Artist nella colorazione più scura se non sbaglio esatto la colorazione più scura e una volta che sono soddisfatta vado semplicemente a pettinarle sempre con la stessa matita perché dall'altra parte c'è il pettinino incorporato è una matita molto morbida e mi piace un sacco l'applicazione perché in pochissimi minuti riesco a definire le mie sopracciglia passo poi al correttore vado ad utilizzare il Layer Brush Concealer di Benefit questo è nella tonalità 02 lo vado a prelevare con il polpastrello e poi lo vado semplicemente a picchiettare sulle mie occhiaie questo correttore mi piace tantissimo è molto cremoso si sfuma benissimo la colorazione la trovo perfetta per il mio incarnato anche perché va leggermente anche a illuminare la zona delle occhiaie del contorno occhi lo metto un po' anche sulla palpebra per uniformarla per togliere tutte le varie discromie rossori che possono esserci e dopo vado ad aprire l'altro pacchettino di Puro Bio che è gigante e non so cosa ci possa essere al suo interno perché ho ricevuto proprio settimana scorsa i nuovi prodotti le nuove novità quindi non lo so sono curiosissima e poi vado a fissare il tutto con questa cipria in polvere libera di Puro Bio Loose Powder questa mi piace tantissimo infatti l'ho quasi finita vado a metterlo un pochettino sul coperchio e poi la vado ad applicare su tutto il viso prima di truccare gli occhi vado ad aprire questa questo pacco che è abbastanza grande ho già preparato le forbici quindi apriamo e vediamo un po' cosa c'è al suo interno l'inverno è dietro le porte con esso arriva anche il freddo che ci fa sognare posti paradisiaci è vero il nostro sogno ci ha portato in un posto magnifico caratterizzato da sfumature e colori mozzafiato desert dream rappresenta la bellezza della natura il sogno di sfumature rosate il tutto in un kitok completo e pratico il limite edition ottimo da regalare e regalarsi prova l'ombretto rosa come illuminante e il marrone come terra non te ne pentirai ah ok quindi c'è un cofanezzo natalizio adoro innanzitutto c'è tutta l'imbottitura fatta in questo modo e poi sotto nascosto c'è il cofanetto eccolo qua mi piace un sacco la scatola di questi colori puro biocosmetics vediamo l'interno no vabbè cioè guardate che bello hanno fatto anche l'imbottitura degli stessi colori sfumata dal viola alla rosa bellissima e questa è la è il cofanetto è la palettina desert dream vediamo un po' ok abbiamo lo specchiettino qua da questa parte e poi qua c'è un mascara ci dovrebbe essere un mascara si esatto c'è il suo mascara c'è una matita occhi e il pennellino e poi questi quattro ombretti c'è questo color banana ottimo anche per andare a illuminare c'è questo rose gold shimmer che non vedo l'ora di provare magari lo proverò anche come illuminante come mi hanno hanno scritto poi c'è questo color bronzo proprio perfetto anche come come terra proprio come dicono loro e poi questo viola super intenso no vabbè che bella bellissimo questo cofanetto grazie mille puro bio sicuramente magari già in questo video andrò a provare qualcosina comunque adesso passiamo agli occhi e sugli occhi avevo intenzione di andare a mettere il fondotinta l'accordo parfait sempre di lore nella tonalità più scura 8 punto di barra 8 punto doppia sempre i soliti codici quel del cappuccino è il nome di questa colorazione perché come sapete quando sono stata l'evento di lore mi hanno dato tutte le colorazioni di tutti i fondotinta e quelli più scuri in realtà non sapevo come utilizzarli però Simone Belli ci ha dato un consiglio fantastico e ci ha detto di andare ad applicare con i polpastrelli sulle palpebre i fondotinta dalle tonalità più scure e oggi ho scelto di utilizzare questo si può utilizzare sia con i polpastrelli per rendere il trucco comunque super luminoso e super pratico anche l'applicazione con i polpastrelli sicuramente è molto veloce oppure si può utilizzare anche un pennellino basta veramente pochissimo pochissimo prodotto veramente una puntina e poi lo vado semplicemente ad applicare sulla mia palpebra e vado a sfumarlo per pene è un'idea fantastica non avevo mai pensato di utilizzare un fondotinta scuro in questo modo ma appena ho dato l'idea sull'arrivata a casa e qualche giorno dopo ho provato subito perché ero troppo curiosa infatti è un'idea veramente fantastica in questo modo si possono utilizzare anche prodotti che altrimenti si rischerebbe di non utilizzare oppure c'è anche consigliato di utilizzare il fondotinta sempre andando ad applicarlo con il polpastrello sulle labbra e poi ovviamente anche per fare un po' di di contouring e faccio la stessa cosa ovviamente sull'altro occhio dopo mi sono finito di spacchettare i pacchettini che mi sono arrivati proprio oggi voglio parlarvi un po' della casa nuova come sta si sta evolvendo il tutto come stanno andando avanti i lavori perché comunque su Instagram ogni tanto vi faccio vedere qualche foto specialmente su Instagram stories quindi questo è un motivo in più per iniziare a seguirmi comunque come procedono i lavori abbiamo fatto parecchi cambiamenti perché abbiamo scelto dei mobili e comunque abbiamo avuto idee differenti di come era impostata la casa inizialmente quindi abbiamo praticamente fatto spostare quasi tutte le prese specialmente quelle in cucina e praticamente questi lavori adesso sono ultimati abbiamo scelto il colore del pavimento del soggiorno e della zona notte invece siamo indecisi su che colore fare il soppalco principale e il soppalco più piccolo che stiamo costruendo cioè che stiamo che abbiamo fatto costruire che stanno finendo in questi giorni praticamente abbiamo deciso di fare sopra il soppalco che c'era già un altro soppalco per chi non lo sapesse lo rispiego che abbiamo intenzione di utilizzare come zona ufficio quindi metteremo sicuramente le nostre scrivanie ai nostri computer infatti pensavo di utilizzare quella zona come studio per registrare i video e come idea mi sembra molto molto carina anche perché lì ci saranno soltanto appunto le scrivanie niente di più quindi sicuramente è un angolo perfetto per registrare abbiamo fatto l'impalcatura l'hanno fatta è già giù adesso mancano soltanto i gradini che li abbiamo scelti bianchi tutti bianchi abbiamo già abbiamo fatto mettere anche le lucine che seguono i gradini per andare poi che partono nel soppalco principale per andare poi nel soppalco di sopra quindi seguono le scale e abbiamo fatti mettere 4 e tutte queste idee un po' più particolari queste idee un po' più particolari le ho presi tramite Pinterest ho preso spunto tramite Pinterest sono andata un po' alla ricerca e ho trovato queste lucine dietro le scale mi piacevano un sacco e quindi le abbiamo fatte mettere anche quelle adesso ci sono sono pronte adesso prendo un pennellino da sfumatura e vado a sfumare meglio il tutto comunque ragazzi davvero sono super contenta anche perché quasi tutti i giorni se non tutti i giorni una volta ogni due giorni andiamo a vedere i lavori che procedono in casa e vedere come piano piano la casa si sta evolvendo si sta sistemando cioè bellissimo non vedo l'ora di vedere specialmente il soppalco finito anche perché la cosa secondo me più bella del secondo soppalco che abbiamo deciso di fare è che ci sarà la ringhiera sia del soppalco che della scala in vetro adoro il vetro abbinato ai gradini bianchi adoro adoro tutto quindi non vedo l'ora che ci sia giù anche al vetro per vedere poi l'effetto finale vado poi ad applicare all'attaccatura delle ciglia questa matita Cajal di Lore la Paradise Estatic che mi sta piacendo tantissimo la vado a mettere proprio all'attaccatura delle ciglia e poi con un pennellino angolato piatto vado a sfumare il prodotto vado poi ad illuminare la zona del contorno occhi e a pulire dalle piccole imperfezioni con questo correttore di L'Oreal è sempre la Code Parfait Perfect Match questo nella tonalità Golden Beige e lo vado a mettere sia sulle occhiaie in questo modo ma anche qua all'angolino per andare a pulirlo dal make up insomma dalle piccole imperfezioni comunque tornando al discorso della casa abbiamo scelto già la cucina arriverà penso sarà pronta per la primavera prossima magari anche prima febbraio marzo non lo so poi abbiamo scelto i pavimenti che rimetteranno giù l'inizio del mese prossimo poi sicuramente vi metterò su Instagram qualche foto di come è uscito abbiamo scelto il bagno questo sabato andiamo a ultimare le ultime cose come ad esempio il colore non sappiamo ancora che colore farlo il colore del mobile comunque fatto questo una volta che ho applicato il correttore che ho pulito leggermente l'angolino l'angolo esterno dell'occhio vado ad utilizzare il piegaciglia prima di mettere il mascara passo poi al mascara vado ad utilizzare il Paradise Estatic che è il mio mascara del momento lo applico sia sulle ciglia inferiori che su quelle superiori poi un'altra cosa abbiamo deciso di fare la cabina armadio perché abbiamo in totale tre camera da letto al momento ce ne servirà soltanto una e quindi abbiamo deciso di fare di utilizzare la cameretta più piccola come cabina armadio di bere la cabina armadio e non vi dolore anche quella stanza di vederla completa terminata andremo a prendere i mobili da Ikea gli stessi mobili che ho in camera quindi la linea Pax di Ikea che si può comporre in base alle proprie preferenze e la faremo tutta senza ante proprio perché risulterà una vera e propria cabina armadio me ne stavo dimenticando visto che nella palette che ho per piccolo momento di panico era andata via completamente la corrente comunque vi stavo dicendo vi ero completamente dimenticata che all'interno di questo cofanetto di Benefit c'era anche il mascara quindi sull'altro occhio vado ad utilizzare questo mascara mini di Puro Bio vado poi a fare un po' di contouring con questo prodotto in stick di Benefit che mi sta piacendo tantissimo perché è super facile ad applicare vado semplicemente a tracciare due lilie sotto gli zigomi le metto un pochettino anche sopra la fronte e poi vado con un pennellino a sfumare mi piace proprio perché si sfuma velocissimamente è perfetto anche per le più imbrenate diciamo quelle che non sono troppo brave con il contouring come me si applica veramente velocissimamente si sfuma benissimo tornando poi al discorso della casa ho qui da farvi vedere tre colori di piastrelle insomma di legno perché sul soppalco principale e sul soppalco più piccolo metteremo il parquet però siamo indecisi su che colore fare anche perché i gradini della scala saranno bianchi come vi dicevo ci sarà la ringhiera in vetro e non sappiamo che colore fare adesso vi faccio vedere prima però passo al blush e vado a mettere il Go Go Tint di Benefit questo prodotto si può utilizzare sia sulle guance che sulle labbra come tinta labbra diciamo per colorare leggermente le labbra perché poi più di tanto come tinta labbra non regge però io lo preferisco applicato sulle guance soltanto come blush quindi vado a mettere un po' di prodotto e poi vado subitissimo a sfumare perché si asciuga velocissimamente questo colore mi piace molto basta veramente pochissimo prodotto per ottenere un effetto di guance leggermente arrossate che come piace a me non mi piace abbondare con il blush questi sono i colori non so se in videocamera rendono al 100% le tonalità comunque questo è il primo colore che è quello leggermente più scuro è un classico color legno forse però io lo vedo un po' giallino non so ditemi anche voi questa è la prima alternativa altrimenti c'è questo che è un avorio non so se riuscite a vedere i nodi del legno leggermente più scuri perché questo è proprio è vero legno è l'effetto che poi sicuramente otterremo con il nostro parquet questa è la seconda opzione e questa è l'ultima che è quasi bianco è chiarissimo questo sicuramente con i gradini bianchi sta bene perché è il bianco è un classico bianco sta bene anche con il vetro e poi la parte invece in ferro del soppalco abbiamo deciso di colorarla di pitturarla di color silver argento con un po' di brillantini c'è il leggero effetto shimmer diciamo prima di passare alle labbra utilizzo questo ombretto di puro bio rose gold come illuminante sono bellissima di vedere com'è mi prendo un pochettino e lo vado ad applicare mamma mia che bello è super shimmer non so se riuscite a vedere bellissimo mi prelevo poco perché vedo che è super super pigmentato cioè guardate wow lo amo metto un pochettino anche sulla punta del naso e poi appena appena anche sulla fronte e sull'arcata sopraccigliare è pigmentatissimo guardate mi piace un sacco l'effetto che luminoso adoro 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 non vedo l'ora di vederlo come sarà anche sugli occhi come ombretto perché in realtà nasce come ombretto e per ultima cosa adesso passiamo alle labbra sono indecisa tra quale colore utilizzare tra questi sono tutte tinte labbra rossetti liquidi di Puro Bio ho scelto la colorazione 02 questa poi la colorazione 01 che è super nude molto molto chiaro e poi ho scelto la colorazione numero 05 che è questo color mattone non so quale usare con questi colori secondo me potrebbe starci molto bene il numero 02 utilizzo questo anzi ho deciso li aprivo tutti e tre poi fatemi sapere rispondendo al sondaggio quale dei tre colori preferite con questo tipo di di makeup con questo look questa è la colorazione più chiara la numero 01 è un classico color nude io adoro questi colori e anche con questo look secondo me sta davvero molto bene mi piace mi piace molto adesso vado a provare però il numero è 02 questo invece il numero 02 è sicuramente un colore più scuro assomiglia un sacco al colore delle mie labbra anche questo a questo rossetto liquido lo utilizzo tantissimo proprio perché è molto simile al colore delle mie labbra e quindi lo trovo adatto insomma a tutti i giorni tutti i tipi di makeup passiamo adesso all'ultima colorazione questa invece è la terza e ultima opzione appunto la tinta labbra numero 05 anche questo colore col makeup di oggi mi piace molto però fatemi sapere rispondendo al sondaggio quale preferite tra lo 01 lo 02 e lo 05 nulla detto questo ho finito di truccarmi bene o male vi ho raccontato abbiamo spacchettato i pacchettini che ho ricevuto oggi vi ho raccontato un po' come sta procedendo come stanno procedendo i lavori a casa nuova vi terrò giornate sicuramente su instagram con delle stories delle foto per farvi capire come stanno procedendo i lavori e come sta venendo fuori sono sempre più contenta ogni volta che vedo un piccolo mattoncino aggiungersi diciamo per avvicinarsi al termine della casa dell'idea dell'idea di casa che abbiamo io e ste sono sempre sono sempre molto contenta nulla ho qui gioia ma sta dormendo quindi non riesco a farvela vedere sicuramente farò se vi può piacere anche un video dedicato su di lei insomma come sta crescendo io ho fatto anche un ordine su aliexpress ho preso un po' di cosine per lei però non sono ancora tutte arrivate quindi magari quando poi arriveranno tutte le cose che ho ordinato farò un video dedicato dove vi farò vedere le cose che ho preso super carine per lei e vi racconterò un po' un po' come è cresciuta come sta e tutto quanto ve la farò vedere meglio io vi mando ragazzi un grandissimo bacio non so quanto sia venuto lungo questo video ma ora è diventato parecchio lungo quindi non non mi perdo più un chiacchiere vi mando un grandissimo bacio vi ringrazio tantissimo se avete seguito il video fino alla fine se è stato così magari lasciate un commento qua sotto mettete la casetta vi lascio magari l'emoticon da qualche parte comunque la casetta se siete arrivati fino alla fine di questo video se il video vi è piaciuto mi invito a mettere un bel pollice in su mi raccomando iscrivetevi al canale per non perderevi tutti i miei prossimi video attivate anche la campanella così ogni volta vi arriverà la notifica vi mando ancora un grandissimo bacione vi ci vediamo prestissimo in un nuovo video ciao 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 Grazie a tutti.